Parliamoci chiaro, ma possiamo andare indietro rispetto ai risultati non lusinghieri se vogliamo guardare a quelli numerici, quantitativi, delle scorse elezioni, ma proprio è impossibile, anche se facciamo un logo senza scrivere nulla e ci mettiamo soltanto una crocetta, come dire, nessuna allusione col candidato crocetta. No, possiamo fare anche una cosa molto simpatica, se noi facessimo, riproducessimo nel logo questi quadri di arte contemporanea tutto blu e una puntina bianca, forse piglieremmo più voi, avete visto?